Il trattamento, diciamo, dentale, tutto, è stata veramente una cosa magnifica e stupenda. Bellissimi, grazie, sono veramente belli, sono veramente felice del lavoro che avete fatto. Assolutamente tutto meraviglioso. Mi sento rinata, finalmente posso sorridere benissimo, senza preoccuparmi più delle tante imperfezioni. Non avevo vergogna, non ho più avuto paura di parlare con altre persone, di mangiare insieme ad altre persone. Quindi sono soddisfattissimo, posso sorridere. Sono felice, finalmente posso mangiare così come voglio. Ho mangiato la mia prima bistecca dopo tanti anni. Non potevo masticare, prima adesso mastico tutto. Dopo sei mesi che non masticavo niente, volevo masticarmi anche le gambe del tavolo, però è andata bene, ho mangiato solo quello che si dava sopra il tavolo. Sono venuto qua con niente. Come ero prima e come sono adesso è tutta un'altra cosa. Prima stavo male, non sorridevo mai, adesso sorrido sempre. Due anni fa sono intervenuti nell'arcata superiore. Quando ho avuto questo problema nell'arcata inferiore subito mi sono rivolta da viaggiare e sorridere. Hanno trovato tutto il lavoro effettuato lo scorso anno in regole, in tutto e per tutto. Non posso che ripartire contentissimo. Questo è il lavoro terminato, è il motivo per cui oggi sono così sereno. Sono contento di essere me affidato perché ho trovato un bel lavoro. La mia esperienza è stata molto positiva. Quindi insomma è stata un'esperienza molto bella che consiglia a chiunque di ripetere. Io debbo dare un giudizio più che positivo. È stata comunque una bellissima esperienza. È forse la prima volta in vita mia che sono contento di essere ingrassato un pochino. E niente, non posso che ringraziare la clinica Grini perché non ho ritrovato solo sorriso, ho trovato anche il piacere di vivere.